Domenica 12 febbraio, lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi, non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della genna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto, non commetterai adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella genna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella genna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio. E chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi, non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché il trono è di Dio, né per la terra, perché è lo sgabbello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare, sì sì, no no, il di più viene dal maligno. Parola del Signore. Il contesto nel discorso della montagna. Gesù rivolge alle folle che accorrono per ascoltarlo un discorso che sorprende per l'autorità di cui è pervaso. Comunica loro con vigore le esigenze di una vita segnata dall'essere figli di Dio e dalla fraternità verso tutti. In tale tentativo dà significato di pienezza al precetto della legge ebraica. L'Evangelista, nel collocare questo primo discorso di Gesù sulla montagna, ha voluto richiamare alla mente del lettore l'immagine di Mosè che dona la legge sul Monte Sinai. Tale insegnamento viene impartito mentre Gesù è seduto, posizione che ricorda l'atteggiamento del rabbì ebraico. che interpreta la scrittura ai suoi discepoli. È difficile cogliere in un insieme la ricchezza dei temi che ricorrono all'interno di questo lungo insegnamento, tanto che alcuni studiosi preferiscono chiamarlo le parole evangeliche di Gesù. Il nostro brano liturgico è preceduto da un esordio in cui vengono presentate le beatitudini come adempimento della legge. Il messaggio di Gesù, in questo inizio, si concentra sulla felicità in senso biblico, che pone l'uomo nel giusto rapporto con Dio e, di conseguenza, con la totalità della vita. Una felicità legata alla realtà stessa del Regno dei Cieli. In una seconda parte viene sviluppato il tema della giustizia del Regno dei Cieli. All'interno di questo ultimo lungo contesto si trova l'insegnamento di Gesù, che ascoltiamo nella liturgia della parola di questa domenica. Gesù, adempimento della legge e dei profeti In queste prime affermazioni, Gesù si presenta come colui che adempie la legge. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare compimento. Gesù dichiara che egli è l'adempimento della legge. Le conseguenze di tali parole sono così comprese dal lettore. Solo attraverso di Lui si può entrare nel Regno dei Cieli. Anzi, il più piccolo dei comandamenti acquista senso attraverso la sua persona. È come dire che Gesù è la misura per entrare nel Regno dei Cieli. In esso, chiunque, piccolo o grande, dipende dalla scelta di lasciarsi condurre da colui che adempie la legge e i profeti. D'ora in avanti, la legge, l'insegnamento dei profeti, la giustizia, acquistano il loro vero spessore salvifico, a partire dal legame con la sua persona. Il lettore sa che nell'Antico Testamento questa realtà era vista come separata e distinta tra loro. La legge conteneva la volontà di Dio. La giustizia esprimeva l'impegno umano per osservare i contenuti della volontà di Dio presenti nella legge. I profeti, esegeti della legge, erano i testimoni dell'adempimento della fedeltà di Dio nella storia. Nella persona di Gesù queste tre realtà sono unificate, trovano il loro senso e valore. Gesù dichiara apertamente che è venuto ad adempiere la legge e i profeti. Cosa vogliono dire queste affermazioni di Gesù? Che cosa vuol dire la legge e i profeti? Non si può pensare a Gesù che adempie le profezie, nel senso contenutistico, letterale, della legge e dei profeti, ma piuttosto gli insegnamenti della legge e dei profeti. Ma in particolar modo, cosa significa abolire, adempiere gli insegnamenti della legge e dei profeti? La risposta si pone a due livelli. Il primo riguarda l'insegnamento di Gesù, che non cambia i contenuti della legge e dei profeti, e la cui funzione era didattico-istruttiva. Difatti, Matteo considera i profeti come testimoni del comandamento dell'amore. Che Gesù porta a compimento gli insegnamenti della legge e dei profeti può significare che li manifesta nel loro significato, porta a completa espressione, ed è escludere il significato di invalidare, abolire, non osservare, infrangere. Il secondo livello coinvolge l'agire di Gesù. Muta o no la legge stessa? In questo caso, adempiere la legge potrebbe significare che Gesù, con il suo comportamento, aggiunge qualcosa che manca, oppure porta a compimento, perfeziona gli insegnamenti della legge. Più concretamente, Gesù, nella sua vita, con la sua obbedienza al Padre, adempie le esigenze, le richieste dalla legge e dai profeti. In definitiva, osserva completamente la legge. Più compiutamente, tramite la sua morte e resurrezione, Gesù ha adempiuto la legge. Gesù ha adempiuto la legge.